Buongiorno, rispondiamo oggi al signor Giovanni che scrive, volevo farle una domanda, qualche mese fa ho fatto un impianto, il dentista dice che però non si è integrato nell'osso, che cosa significa e che cosa bisogna fare in questi casi. Osso integrazione, signor Giovanni, il processo per cui l'osso, guarendo dopo l'intervento chirurgico, cresce e ingloba saldamente l'impianto, perché questo avvenga correttamente, l'impianto deve essere immobile rispetto all'osso, ci deve essere una buona vascularizzazione e altri fattori del genere. Se l'impianto non si è integrato, significa che si è formato del tessuto connettivo fibroso, spesso infetto, farosso e impianto. L'unica possibilità è rimuovere l'impianto e se possibile sostituirlo con un altro, con tecnica più idonea. Le faccio notare che nella nostra sistematica implantare i fallimenti sono inferiori all'1% e sempre coperti da garanzia. Ad ogni buon conto, se ha bisogno di informazioni più dettagliate, ci contatti attraverso il sito o al nostro numero verde. Arrivederci.